Ferluga, il comitato Danilo Dolci celebra la giornata internazionale dell'ONU contro le discriminazioni razziali che coincide pure con il ricordo per le vittime delle mafie. Ecco, noi non potevamo lasciare questa data così nel dimenticatoio. Abbiamo già altre volte testimoniato in questa piazza e lo facciamo anche oggi. Abbiamo avuto la coincidenza di avere anche qui i ragazzi di Napoli e noi proietteremo martedì domani alle 20.30 nella nostra sede di Via Valdirivo 30 il film La Camorra di Tornatore. Ecco, questa giornata significativa coincide anche con la giornata sì certo di lotta e di impegno e di ricordo contro le morti avvenute, assassini fatti dalle mafie. Ecco, in questa piazza però anche ricordiamo che è la giornata mondiale della poesia che nulla meglio di una poesia può intenerire il cuore e darci auspici di pace che servono tanto alle generazioni che verranno oltre al nostro presente. Grazie. Grazie. Grazie.